Più di una bella storia sotto l'albero di Natale è la storia di un lavoratore e di un imprenditore che si incontrano e della speranza che rinasce. Anche se hai 51 anni hai perso il lavoro, il lavoratore in questione è Alessandro Bardazzi, 51enne appunto che nel 2015 viene messo definitivamente a casa insieme a tutti i colleghi dalla ditta tessile in cui lavorava a causa fallimento e conseguente chiusura. Comincia a proporsi dappertutto non limitandosi al settore del tessile ma appena vedono che non è più un giovincello prendono il curriculum e lo mettono da parte. Riesce a lavorare qualche mese nell'impresa di pulizie in cui è impiegata la moglie, poi più niente. Il niente nel lavoro ma il tutto nel resto, il mutuo da pagare, le bollette, la spesa da fare, una bambina a scuola. Entra in gioco l'ufficio tirocini della Caritas diocesana che offre a Bardazzi la possibilità di lavorare per quattro mesi nel ristorante Le Fontanelle, realtà imprenditoriale dalla storia quarantennale sul territorio. Il ritornare nel mondo lavoro a me mi ha fatto tipo un ossigeno perché stare fermo, specialmente una persona di 50 anni o anche un ragazzo uguale, non è che per quell'età, e avendo famiglia, insomma, gira un pochino le scatoline. Mi ero iscritto alle varie agenzie, però non trovavo sbocchi, diciamo, sempre trovato sbocchi, in senso che un mese, due mesi, ma più di lì non si andava. Allora mi sono rivolto alla Caritas e gli disse di fare un lavoro. E allora gli disse, ma che cos'è questo lavoro? Gli disse, è un mondo del ristorante. E all'inizio disse, ma io non l'ho mai fatto. Dice, ma, e pensavo, dice, ma andiamo, proviamo. Io venivo prima nel mondo del tessere e dai tessere andare nel mondo del ristorante c'è tanta differenza, diciamo. Per quattro mesi fa il lavapiatti nella cucina dello chef e titolare Valentino D'Aloisio. Piano piano, pur provenendo da lavori di tutt'altro genere, impara rapidamente a fare tutto quello che gli chiedono. La versatilità unita all'affidabilità piace ad Aloisio, che dopo la fine della borsa tirocinio decide di assumere Bardazzi con un contratto a tempo determinato. La dinamica che si è instaurata al ristorante Le Fontanelle dimostra l'esistenza sia di un meccanismo ben oliato, quello dei tirocini proposti dalla Caritas, sia di imprenditori che, pur ripudiando l'attributo di Illuminati, sanno aprire le porte delle proprie aziende a chi si trova in difficoltà. Io non lo chiamerei come aiuto, ce n'è bisogno, ha continuato e continua. Ma questo è successo semplicemente perché Bardazzi è una persona che merita, secondo il mio parere, quindi non c'è stata nessuna forzatura. Finito il tirocinio gli ho chiesto se voleva rimanere fino alla sua volontà. E ciò ha permesso sia a me di avere una persona giusta, a posto giusto, quindi senza nessun problema, e da parte sua di avere anche una certezza di poter continuare un lavoro che lui non conosceva neanche. Conosco esperienze, per esempio come lui, che ci si sente dire dopo i 50 anni, ma forse vediamo. Secondo me no, è un'opportunità persa perché 50 anni vuol dire anche avere delle esperienze di vita, quindi anche una serietà, una fermezza. Adesso Bardazzi sta imparando anche l'impiattamento degli antipasti e si va così verso il rinnovo del contratto.